Nicolò, allora c'è questa decisione di venire a Borgotaro? Era l'offerta migliore che avevo, avevo voglia di venire qui, sono stato convinto da più cose, sono qui, basta. Vabbè, la tua carriera sia sul sito che sul tv l'abbiamo descritta tutta, quindi non ce la devi dire tu. Le tue caratteristiche, quella di seconda punta, se non sbaglio. Adesso non me ne ricordo perché è un po' che non gioco, quindi magari mi fai giocare due o tre partite e poi dopo ti le so dire. Adesso non me ne ricordo. Tu fai sempre la fortuna del bomber, quindi Bertorelli, già che ha fatto sei gol di suo saltando quattro o cinque partite, quest'anno lo rispolveriamo, lo facciamo diventare un giovinastro. Volentieri, volentieri. Ti abbiamo preso a posto, vero? Dai, dici qualcosa, pensa. Salute al pubblico. Ah beh, sono molto contento di essere qui, spero di fare bene, spero che ci salviamo. Beh, vi salvate sicuro. Sicuramente. Lo dico io, ti avranno descritto questa squadra, però credimi, non è mai stata messa sotto da nessuno, è una cosa incredibile. No, mi hanno detto che c'è stata molta sportuna e ce la possiamo fare. Niente, dai, adesso ti ringrazio, poi vero quando trovo dei mezzi un po' migliori. Fa benissimo. Adesso ti lascio andare a correre, se no, a fine dopo no. Mi fanno pagare un po' anche a me. Perfetto, ti ringrazio. Ciao Nicolo, ciao.